Adilami, prima stagione da direttore sportivo di Rana Verona, una preparazione che sta continuando dopo le prime uscite Milano, adesso il torneo in Polonia, le prime sensazioni? Sì, abbiamo iniziato finalmente a fare dei amichevoli e i ragazzi a cercare di competere in questo inizio di stagione con altre squadre, qui c'è stato un weekend dove tutte e due le squadre che abbiamo incontrato sono state di ottimo livello livello tecnico, il campionato polacco come quello italiano è composta da squadre di alto livello con la con Milano e questo weekend qui dove abbiamo svolto due gare che le abbiamo anche vinte sono state sicuramente due ottime prestazioni anche se la squadra ancora non è al completo noi stiamo lavorando per questo, per poter affrontare al meglio quello che sarà all'inizio della stagione Siamo proprio nel pieno della preparazione, quindi i risultati contano, nel senso che vincere è sempre molto importante però conta anche prepararsi al meglio, preparare movimenti, schemi eccetera, a che punto siamo? Allora il risultato finale ovviamente si compete per il risultato, fa sicuramente morale, inizia a dare fiducia a quelli che sono i meccanismi che dovremmo cercare di affinare in vista dell'inizio della stagione Al momento, come dicevo prima, la squadra non è al completo, quindi sicuramente lo staff tecnico da queste due competizioni da queste due gare soprattutto avrà delle indicazioni molto importanti su quello che saranno le soluzioni da adattare durante il campionato Adesso si torna subito dalla Polonia, c'è un torneo di altissimo livello il prossimo weekend a Montichiari? Sì, come questo che abbiamo appena affrontato, finito, ci sarà una settimana di tempo per poter preparare quello che è il torneo del prossimo weekend dove affronteremo le squadre di Piacenza, Modena e Trento, un torneo di alto livello assolutamente perché loro, soprattutto Trento, in procinto anche di partecipare alla Supercoppa la settimana successiva quindi sono già anche nella fase di preparazione più avanti di quello che siamo noi Noi faremo una settimana di preparazione per poter arrivare al torneo di Montichiari ancora meglio di come siamo arrivati in questo torneo qui Insomma si cerca sempre di alzare l'asticella? Decisamente, anche perché lo staff tecnico con il coach Stoicev sicuramente non lascia momenti di relax e quindi di conseguenza questo aiuterà anche la squadra a mantenere sempre di più concentrazione e alzare il livello Grazie a tutti